Ci sono 6 milioni di studenti dai 3 ai 18 anni che sono a casa perché le loro scuole sono state chiuse. I loro genitori invece vanno a lavorare. Questo significa che ci sono milioni di famiglie che ancora una volta stanno lottando per cercare di gestire contemporaneamente gli impegni lavorativi con la cura dei figli. È molto semplice la nostra domanda, Ministra, gliel'ho già fatta più volte anche informalmente. Quando saranno rinnovate le misure dei voucher per il babysitting, dei congedi parentali, del diritto allo smart working per aiutare le famiglie a conciliare cura dei figli che sono a casa in didattica a distanza e impegni lavorativi dei genitori. Saranno delle misure retroattive che copriranno anche i mesi in cui queste misure non sono state rinnovate, quindi dal 31 di dicembre a oggi. saranno misure automatiche quando chiudono le scuole e vengono attivate perché non si sgancia questo provvedimento dal resto dei provvedimenti e lo si approva immediatamente visto che la capienza finanziaria c'è. La ringrazio. Grazie a tutti. Io ho avuto modo di dire nella risposta all'interrogazione precedente, fin dall'inizio di questa epidemia ho voluto mettere in campo diversi strumenti che potessero rispondere alle diverse esigenze delle famiglie. Le misure che sono state attuate hanno dimostrato una buona efficacia nella prima parte dell'epidemia pur scontando i limiti del loro carattere di straordinarietà. Il Governo sta già lavorando per reintrodurre nel decreto sostegni di prossima emanazione le misure di aiuto alle famiglie applicabili a tutte le situazioni di sospensione dell'attività didattica in presenza, in modo automatico, diversificandole secondo i loro bisogni. La prima misura riguarda la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto in parte del periodo corrispondente ai giorni di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16, nonché per la durata dell'eventuale quarantena disposta per lo stesso dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. In caso di impossibilità ricorre al lavoro agile verrà riconosciuto ai genitori dei figli minori di 16 anni il diritto ad un periodo di congedo straordinario, con un'indennità nel caso di figli minori di 14 anni pari al 50% della retribuzione, sempre per tutti i giorni di sospensione dell'attività didattica in presenza o per la quarantena del figlio. La stessa previsione si estenderà ai genitori dei figli con disabilità in situazioni di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri di urni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Sto lavorando finché questi tipi di congedo possano essere convertibili. Nel caso di congedo preso precedentemente ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 151-2001 fruiti dai genitori durante i periodi dal 1 gennaio all'approvazione del decreto nella possibilità di una conversione degli stessi attraverso il congedo straordinario e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Infine per i lavoratori autonomi, i lavoratori impegnati in prima linea nel contrasto dell'epidemia come le forze dell'ordine, i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario stiamo lavorando per la reintroduzione della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di babysitting o più generalmente di servizi educativi. Mai siamo certi come in questo momento è indispensabile che nessuno in particolare le famiglie e i bambini e i giovani si sentano lasciati soli perché la ricostruzione di cui abbiamo bisogno partirà da tutto quel grande patrimonio che la fiducia che il popolo italiano non ha mai fatto venire meno in questo periodo. Grazie. Grazie a lei. A facoltà di replicare la deputata Chiara Gribaudo. Prego, lei la parola alla deputata. Grazie Presidente, grazie Ministra. Noi accogliamo queste informazioni che ci ha dato e che saranno quindi nel decreto sostegni. La invitiamo però a riflettere insieme al governo tutto se non rischi effettivamente di essere troppo poco e troppo tardi. Bene che ci sia il congedo retribuito al 50%, bene che venga rinnovato il diritto allo smart working, bene anche i voucher babysitter. Dobbiamo però dirci che solo i voucher non possono essere l'unico strumento a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici autonome che avrebbero diritto anche loro a dei veri e propri congedi parentali e effettivamente mi auguro che questo sia il percorso che faremo insieme. Dobbiamo anche tenere in conto che queste chiusure e questa compressione degli spazi sociali ha messo in difficoltà tante persone, soprattutto madri, bambini, dal punto di vista psicologico soprattutto. Per questo occorrerebbero anche qui degli voucher, delle misure che possano essere degli strumenti a sostegno delle famiglie e delle persone più in difficoltà. Sono almeno due settimane che due milioni circa di bambini e ragazzi sono costretti a casa, nelle zone rosse, con tutte le gravi conseguenze per le famiglie e soprattutto per le madri lavoratrici che lo sappiamo nel nostro paese si fanno carico al 75% del lavoro di cura. Se il decreto slitterà ancora alla prossima settimana eppur comprendendo tutte le difficoltà della fase crediamo che le donne e le famiglie italiane non possano più aspettare perché sappiamo che la retroattività in una materia così complessa rischia di perdersi nei meandri della burocrazia italiana. La invito pertanto a lei, Ministra, insieme al Presidente Draghi e a tutto il governo di rafforzare il più possibile queste misure, di renderle automatiche perché a quanto pare ovviamente la situazione è ancora molto preoccupante e ci saranno chiusure e riaperture. È importante che ci siano risorse, automatismi, perché le donne italiane, come anche lei ha ricordato, hanno già pagato un prezzo troppo alto. Donne e persone più fragili vanno sostenute perché come ci ha ricordato lei e io sono convinta con lei che non ci sarà una ripartenza se non ci sarà maggiore uguaglianza. Quell'uguaglianza passa soprattutto dalle donne italiane. Grazie.